La fotografia sugli illeciti, reati penali e sanzioni amministrative che abbiamo lungo le nostre coste. La Sicilia purtroppo nella classifica generale è al terzo posto per reati e illeciti amministrativi a danno della salute degli ecosistemi marini. Il mare inquinato, la pesca di frodo, i danni ambientali, qual è il problema principale, quello più grande? La Sicilia è prima per reati e illeciti amministrativi riguardo alla pesca di frodo. Questo sappiamo bene che è un grosso stress sui già soffrenti stock ittici del Mediterraneo. Quindi certamente questo è un enorme problema che si può certamente risolvere e mitigare con misure più stringenti, oltre che la sensibilizzazione ovviamente del settore della pesca. E anche i reati per quanto riguarda il cemento illegale, che nella classifica generale, pensate, occupano più del 50% dei reati illeciti registrati in Italia. E anche la Sicilia ovviamente ne è afflitta. Ogni anno lega ambiente con la campagna Spiagge Fondali Puliti si reca nelle spiagge di tutta Italia insieme a tantissimi volontari e volontarie e anche altre associazioni. Si imbatte in rifiuti che poi sono ascrivibili a alcune categorie. Molti fanno parte della mala gestione dei rifiuti solidi urbani. Alcuni sono rifiuti provenienti dalle attività della pesca. Altre volte ci si imbatte in vere e proprie discariche illegali. Il mare è inquinato non solo dagli rifiuti che troviamo sulle spiagge, ma anche dai rifiuti liquidi, dagli scarichi. Infatti la Sicilia e l'Italia non brillano per quanto riguarda la gestione delle acque reflue. Infatti tra i reati e gli illeciti presenti nel report Mare Monstrum ci sono anche quelli riguardo all'inquinamento dei mari, appunto rifiuti, quindi ciclo dei rifiuti, ma anche mala depurazione. La ricetta, se vogliamo, lega ambiente l'ha proposta al governo Meloni, non solo in questa occasione del rapporto Mare Monstrum, ma anche nelle precedenti. Per quanto riguarda l'ultimo argomento che abbiamo toccato, chiediamo interventi di creazione, dove è assente perché c'è anche questo caso, e adeguamento della rete fognaria, e anche un miglioramento della depurazione delle acque. Questo potrebbe portarci anche a poter riutilizzare quest'acqua preziosa, depurata, chiaramente, ad esempio in settori chiavi come quelli dell'agricoltura, in periodi come questo che soffrono di grandi stress sugli apporti idrici.